Quando lo sport e la salute chiamano, Nathalie Caldonazzo risponde sempre. Beh, io sono amica di Giorgio Meneschin, che insomma al gemelli è una figura importante. Quando unisce queste cose piacevolissime, tra l'altro, ha un discorso di aiutare per la salute, eccetera. Insomma, eccoci qua, non c'è nessun problema. Salute, quest'anno addirittura si parla di prevenzione contro l'ipertensione, quindi un tema che tocca quasi un italiano su quattro. Quindi è importante, purtroppo qua c'è sempre qualcosa che ci tocca. È verissimo. Giocherai più tardi? Questo proprio glielo ho detto a Giorgio, non mi far giocare perché odio le mie gambe, quindi solo l'idea di mettermi il gonnellino. E no, poi sono incapace. Io il tennis proprio. Altri sport sì, ma il tennis no. Ma diciamo che accettiamo più la seconda risposta, perché la prima, dire che tu odi le tue gambe, hai un fisico eccezionale. Non so, ma sai come sono le donne, Giorgio? Quello che nominavo prima, vieni caro. È lui, il famoso Giorgio. Grazie di essere venuta, grazie. Dicevo allora che quando tu chiami figura importante del gemelli e unisci queste cose piacevoli a cose importanti di solidarietà, siamo qui, i tuoi amici. I miei amici, ma soprattutto le persone che promuovono la salute, questo è importante, la prevenzione. Persone sensibili agli aspetti sociali, perché quello che stiamo facendo oggi, loro vengono a sostenere perché poi la gente comunque li vede arrivare. In salute. In salute. E però possono fare un check-up gratuito. Ah, oggi che check-up facciamo? Oggi siamo... L'anno scorso tiroide. Sì. Tutto ok. La tiroide è ottobre, è fissa quella ormai, è un puntamento importante per la tiroide. Oggi invece è la giornata mondiale dell'ipertensione. Quindi abbiamo sostenuto come Tennis and Friends la giornata mondiale dell'ipertensione, quindi si misura la pressione a tutti quelli che volessero sottoporsi alla misurazione della pressione. E qual è il problema della pressione? L'alimentazione. Quindi ci abbiamo messo accanto i dietologi che danno i consigli sull'alimentazione. Chi è il meglio di Natali può farci vedere? Quello che stavo dicendo. Esatto, esatto. Mi ha chiesto se gioco o no. No, cerco di... Ma a ottobre giocherà, ne sono sicura. Ma lei dice che non le piacciono le sue gambe. No, a ottobre giocherà, ve lo garantisco, è una scommessa. E noi ci saremo, quindi verremo qui a testimoniare. Grazie mille, Natali. Andiamo a fare il check-up. Vieni anche tu. Andiamo. Grazie. Grazie.